Ragazzi, Facebook è morto. Quindi che cosa facciamo? Ci andiamo tutti su Instagram, su TikTok? Ma per favore. Bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alessia Bocampuso, social media manager specializzata nel settore alberghiero e oggi parleremo di Facebook e della sua non di partita, signore e signori, perché? Perché Facebook non è morto e non sarò io qui a dirvelo, ma saranno i dati. E parleremo del perché Facebook non è morto e perché per il settore alberghiero è ancora un'ottima piattaforma. Io capisco che ormai la sentite dal cugino, dall'amico, dal figlio, ma noi dobbiamo andare su Instagram, dobbiamo andare su TikTok, perché lì ci sono tutti. Sì, ma tutti chi? Questo è che andremo a vedere oggi. E poi se andiamo su Instagram, su TikTok, va benissimo. Ma siamo in grado di sostenere una comunicazione del genere? Quindi non vi perdete questo video. Prima di iniziare però iscrivetevi al canale attivando le notifiche, così da non perdere tutti i miei contenuti. Poi se volete una consulenza gratuita con me lo potete fare prenotando una chiamata nel link che troverete in descrizione. Ma veniamo all'argomento del giorno, quindi Facebook è morto. Come vi ho detto prima non sarò io qui a dirvi che Facebook sopravvive ancora e viene utilizzato tantissimo nel settore alberghiero, ma saranno i numeri. E qui adesso vi farò vedere dei report che sono stati fatti per una ricerca da We Are Social in collaborazione con Mertwater. Ringraziamo che ci siano società del genere che fanno questo tipo di ricerche perché ci permettono di avere dati utili a definire una strategia efficace. Vi avviso che vi metterò il link in descrizione così da andare a vedere la ricerca completa. Ovviamente di che cosa parliamo? Beh parliamo di una ricerca che riguarda i social e il loro utilizzo in Italia, perché è stata fatta in tutto il mondo, ma ovviamente a voi interessano i nostri dati, quello che fanno gli italiani. Quindi parliamo del fatto che quasi 43 milioni di persone in Italia sono attive sui social, quindi non giusto due o tre. Calcolate che qua c'è un campione di persone che vanno dai 16 ai 64 anni. Quindi facciamo attenzione anche alla fascia d'età che per noi può essere interessante. Ragazzi, la gente di questi 43 milioni che sono in Italia ad essere attive sui social, qui abbiamo persone che passano circa 16 ore a mese su Facebook. Capite bene che 16 ore sono tantissime, ma comunque non abbastanza tante, perché effettivamente se noi andiamo a vedere il grafico su TikTok, praticamente le persone trascorrono una media di 32 ore mensili. Quindi capite bene, voi dite a loro, ok, ma scusami Alessa, se le persone stanno su TikTok, andiamoci tutti su TikTok, ma che ci importa di Facebook? Tanto Facebook è morto, e no, questo lo vedremo tra poco, perché non tutti possono effettivamente andare su TikTok. Ma vediamo un attimino ancora qualche altro dato, meta che domina la classifica delle piattaforme social più utilizzate. Al primo posto abbiamo WhatsApp, voi capite bene che per questo tipo di discorso che io vi sto facendo, WhatsApp non rientra nei giochi, e poi abbiamo Facebook al secondo posto, con praticamente il 77,5%. Capite bene che Facebook è al secondo posto? E qui non ve lo sta dicendo lo zio, il cugino, il figlio, poi ve lo stanno dicendo i dati, e noi ci basiamo sui dati, sono quelli che contano per davvero. Ma assodato quindi che Facebook non è morto, e abbiamo una ricerca che ce lo dice, perché noi dovremmo utilizzarlo e prediligerlo quindi ad altre piattaforme. Volendo Facebook in realtà ci può essere utile, voi dite ok, ma perché non Instagram? Fammi andare su Instagram, ok, Facebook al secondo posto, ma effettivamente anche Instagram se la cavava bene con un 73,5%. Ed è giusto avere una doppia strategia su Instagram e su Facebook va benissimo. Il punto è che voi dovete capire in realtà dov'è la vostra audience, il vostro pubblico, dov'è. Perché sì, vi posso consigliare, sì utilizzate Facebook perché è la seconda certa forma, adesso voi ne siete convinti, ma dobbiamo capire voi a chi state parlando. State parlando a un pubblico di persone un po' più mature, perché parliamoci chiaro, i giovani della piattaforma l'hanno praticamente abbandonata, beh, lì allora avete ragione, Facebook fa il caso vostro. Ma se parlate ai più giovani, beh, dobbiamo capire quanto questi sono più giovani. L'altro giorno a me è capitato di parlare con un mio cliente che per l'inizio di questa stagione ha preso sanificemente la gestione di Facebook e Instagram per il momento l'abbiamo lasciato da parte. Mi chiama dicendo, no, mio figlio mi ha detto, ma perché Instagram? No, perché qua stanno tutti giovani, lì siete vecchi, Facebook non lo usa più nessuno e da lì l'idea di fare questo video. Ma il punto è, è vero, su Instagram ci sono i giovani, poi lui ha continuato dicendo, perché io vedo il posto, dico ai miei genitori, è lì che dobbiamo andare e quindi i genitori comprano. Non è che funziona proprio così. È vero che nell'ambito turistico i genitori con figli, ragazzini, adolescenti, anche un po' più piccolini, prediligono l'organizzazione delle vacanze a farle praticamente insieme ai figli, creano anche lì un momento, un'esperienza pre della partenza e soprattutto fanno in modo di trovare delle attrazioni che portino il bambino non essere contenti ad andare in vacanza con loro. Ma il punto è che noi dobbiamo parlare soprattutto a chi ha il potere d'acquisto. Se noi ci possiamo permettere di avere una doppia strategia dove abbiamo come piattaforma principale Facebook, perché lì c'è il nostro target, e poi ci possiamo permettere Instagram o TikTok come piattaforma secondaria, va benissimo, lo facciamo. Ma nel momento in cui io sto su Instagram e sto parlando ai più giovani, i più giovani dobbiamo vedere se hanno il potere d'acquisto, se effettivamente vanno dei genitori a dire voglio andare in vacanza con voi, sono un adolescente e non vedo l'ora di andare in vacanza con i miei genitori. Di solito l'adolescente tende a restarsene a casa per far baldoria, mentre i genitori se ne vanno in vacanza, a meno che questi non li obbligano ad andare con lì o con lì. E' ovvio che dobbiamo far vedere che da noi ci sono o delle attrazioni o ce le abbiamo interne, qualcosa che può attirare anche loro. Ma il potere d'acquisto? Chi è che caccia i soldi? Parliamoci chiaro. Noi dobbiamo soprattutto convincere chi caccia i soldi, chi pagherà, chi ha il potere di acquisto. Ma facciamo finta che Facebook la vogliamo lasciar perdere e utilizziamo Instagram, utilizziamo TikTok, abbiamo parlato di un sacco di ore mensili dove la gente passa il suo tempo. E va benissimo. Però che cosa vi ho detto prima? Che forse non siete in grado di sostenere una comunicazione su TikTok. E perché? Perché non avete materiale, video da poter utilizzare. Se voi pensate di poter fare un video così della vostra stanza e metterlo sui social e che la gente dal giorno dopo inizia a prenotare, beh, mi dispiace, questa cosa non funziona assolutamente. Vi dovete armare, dico di un fotografo, ma almeno di un cellulare decente, vi dovete fare un investimento perché vi servono dei video di qualità. Se con Facebook ve la potete cavare con dei video non a qualità 100%, parlo comunque di un 90%, e possiamo andare avanti con le foto su Instagram e TikTok in un certo punto. Possiamo utilizzare le foto, ma se facciamo dei montaggi video. E voi vi mettete a fare i montaggi video? Sì, perché lo dovete fare. Altrimenti, su queste piattaforme non reggete. Sono delle piattaforme visual. Qui l'attenzione la dobbiamo catturare nei primissimi secondi del video. Se non catturiamo l'attenzione se il video non è fatto bene, la gente ci schifta in un nanosecondo. E quindi che cosa abbiamo fatto? Non abbiamo risolto nulla. E la nostra presenza su queste piattaforme è completamente inutile. Voi dovete capire che l'utenza giovane non si accontenta. Adesso i video che noi troviamo su queste piattaforme sono di altissima qualità e allo stesso tempo noi, se vogliamo stare su queste piattaforme, dobbiamo gestire la cosa in questo modo. A me è capitato, sono capitate tuttora delle strutture che iniziamo a collaborare da quest'anno per la prima volta e quindi mi ritrovo nella situazione che loro non hanno del materiale pregresso. E quindi che cosa succede? Non ho dei video che posso utilizzare. Devo aspettare magari l'inizio della stagione. Il fatto che collabino con un fotografo e ora sto facendo il lavoro e ora ho la prima gestione. Queste cose capitano. Nuove gestioni, inizi di stagione. E quindi il materiale non ce l'abbiamo. Come facciamo a stare su Instagram? Quando c'ho tanto materiale pregresso che si può utilizzare, a quel punto io mi ci metto, creo Reel, sfrutto i modelli di Instagram per poter fare su queste piattaforme. Ma altrimenti, signori, prediligete Facebook. Facebook è davvero un portento nel settore alberghiero. Lì dobbiamo fare in modo di parlare, effettivamente alla nostra comunità, di non pensare a questo punto su Facebook di andare lì, mettere una mezza foto e basta perché quello non serve. Una cosa della quale ho parlato proprio l'altro giorno in una consulenza dove mi sono ritrovata una pagina dove venivano postate le stesse cose sia su Instagram che su Facebook. Quindi su Facebook mi sono ritrovata un sacco di foto con hashtag senza una mezza didascalia. Quindi praticamente quelle per me erano foto di campagna e basta. Per poi scopri, visto che avevo fatto tutta l'analisi e approfondimento, che le persone apprezzavano molto il mare vicino. Io ho trovato una marea di foto di campagne e semmai video di mare che non mi lasciavano intendere che quelle fossero vicino alla struttura. Per me potevano essere anche a 10 chilometri. Ma se non siete voi a comunicare con le persone e parlare dei vostri punti di posta, dove vi limitate a fare un mezzo scatto o a mettere una locandina illegibile nella vostra promo di pasta, come pensate che Facebook funzioni? Ci credo che poi mi dite Facebook è morto, Facebook non va bene. Perché non lo sapete utilizzare bene. Io comprendo che molti di voi ci hanno provato, ok? però non è detto che Facebook sia morto e sia la piattaforma è il problema. A volte siete voi che lo state utilizzando in modo improprio. Perché qual è il punto? Pensate di potervi svegliare la mattina, dire bene, oggi metto un post su Facebook perché voglio tanta gente nel mio hotel, metti il post e poi non ottenete il risultato. Bene, il problema sta a monte perché credete che stare su Facebook utilizzarlo per il business significhi solo mettere un post. Mi dispiace deludervi ma quello che io e altri colleghi andiamo a fare è quello di utilizzare il digital marketing su queste piattaforme che utilizziamo come mezzo di comunicazione per arrivare poi al vostro target. Quindi cosa significa che vi dovete impegnare? Volete il fai da te? Va benissimo ma dovete studiare e dovete comunicare alla perfezione così come nel momento in cui comunicate e create dei post efficaci non vi potete permettere di non rispondere alla vostra community. Le persone si stanno dimostrando interessate voi dovete rispondere interagite con loro questo è un segnale importantissimo voi dovete sfruttare questo e tutta la piattaforma non che poi a un certo punto fate il post e poi no a me mi scoccia risponde su Facebook ma io i messaggi mi scoccia no ma io poi mi dimentico no iniziate una strategia la dovete portare lì senza contare poi questo è quello che vi ho detto fino adesso è tutta la parte inorganico ma poi parliamo delle ads poi ok non ci credete Facebook non porta risultati sì ma se fate tutto inorganico Facebook effettivamente non funziona dovete sperare nell'opera dello Spirito Santo di avere dei grandi ritorni calcolate che ci troviamo in situazioni dove ad fatte bene con 15 euro al giorno ogni giorno porto anche 50 richieste di preventivo al mio cliente 50 richieste di preventivo al giorno capite bene che sono effettivamente tantissime opportunità perché vi dico opportunità perché poi la gente pensa ok 50 è e allora non mi hanno fatto sapere ma voi pensate al vostro percorso del cliente voi non è che oggi vi chiedete un preventivo e dopo due secondi date l'ok quindi le persone vagliano vedono effettivamente che cosa c'è poi se voi avete utilizzato una buona strategia vi sceglieranno per i vostri punti di forza altrimenti se comunicate male come ad esempio che vi ho detto prima che non si evinceva da nessuna parte che quella struttura fosse vicino al mare se non evidenziate tutti i vostri punti di forza e tutte le cose che mi avevano elencato poi in consulenza beh lì fate la guarda dei prezzi la gente andrà dal migliore offerente oppure da colui che saprà vendersi meglio io lo so che la targetizzazione per le altre di facebook è peggiorata dall'avvento di ios 14 però a livello turistico per il marketing alberghiero facebook funziona davvero bene così come voi potete scegliere di fare una sponsorizzata per acquisizione di contatti per esempio che vi ho fatto prima così voi investite in una landing page fatta bene dove le persone vi approdano e vi lasciano tutti i contatti e lì fate un altro tipo di inserzione e credetemi ho clienti che hanno abbandonato le ads di google per lasciare solamente quelle di facebook e per non le detti ai lavori vi spiego perché questa cosa può sembrare un'eresia perché al momento in cui io sto su facebook io sto lì per scollare cazzeggiare e passare il mio tempo quindi non sono effettivamente alla ricerca di un albergo se sono su google invece io sto facendo una ricerca consapevole io sto cercando proprio una sistemazione per le mie vacanze o per un posto specifico quindi ovviamente come dicevo la domanda su google è più consapevole quelle di google sono campagne più costose anche per questo motivo oltre alla potenza di google in generale quindi immaginate quanto ritorno sull'investimento abbiamo avuto con facebook per aver deciso di togliere il budget da google e metterlo tutto su facebook e non vi sto parlando di 15 euro al giorno non vi sto parlando di 200 euro al mese qui parliamo di migliaia di euro che mi vengono dati e che datemi ok questo mese in questo budget il mese prossimo lo aumentiamo pensate quindi capite bene fate parlare i numeri prima di dire che facebook è morto affidatevi a un professionista vedete effettivamente cosa state sbagliando e se volete prenotate una consulenza con me è totalmente gratuita e vi dirò qual è la strada giusta da invocare per migliorare la vostra presenza online se volete più richieste di preventivo facebook è la strada giusta nel nostro settore nel settore alberghiero se volete scoprire molto di più iscrivetevi al mio canale non vi perdete i miei video perché ogni lunedì ci sarà sempre un video che parlerà a voi albergatori direttori di villaggi turistici che vi aiuterà a migliorare la vostra comunicazione online io vi aspetto nel prossimo video besos iscrivetevi al mio canale